Ciao ragazzi, oggi siamo in un nuovo video e oggi giocheremo a un nuovo gioco, Poppy Playtime! Come il capitolo 3D? No, no, devo fare i treccati... Ecco, già mi è capitata la sfortuna... Eh, comunque, io non ho sentiti parlare di... Dicevo, io non ho sentiti di parlare di questo Poppy Playtime da miei cugini, ma io infatti l'ho cercato solo per sottolineare questo gioco. Sono curioso, ovviamente, di giocarci. Non vedo l'ora. Allora, che faccio? Devo andare in questo portale, vedo? Andiamo qua. Mi sono teletrasportato. Ah, quindi questo è pure multiplayer, figo, eh? Multiplayer? No, però se ci sono filmati da vedere io autoskippo. Non è che si può schippare, ti prego. No, ecco, non si può schippare. Dieci anni la fabbrica è stata... Ma per forza devo sapere queste cose, no? Trova il fiore. Missione del giorno. Trovare... Nooo. No, no. No, perché? No. Cosa vuol dire questo bottone di... Mmm... Che sono questi colori? Ma perché c'è sto teleno verde, rosa, giallo, rosso? Che mi serve a me i colori del tre, ma che me ne... Ah, vi sentiamo bene il po'... No, già come cammino mi fa paura, Gesù. Ti prego. Adesso devo fare la combinazione del tre, no? Non lo so. Verde, rosso... Verde, giallo, rosso, rosa. Verde, giallo, rosa, rosso. Giallo, verde... Ah! Mi sono dimenticato, ma poi... O almeno non so se poi... Ovviamente è quello del treno. Cioè, può essere che è magari un altro colore, solo che non lo vede. Poi il colore del pavimento, ma... Perfetto, gente. Il colore è verde, rosa, giallo, rosso. Verde, rosa, giallo, rosso. Verde, rosa, giallo, rosso. Verde, rosa, giallo... Verde, rosa, giallo, rosso. Verde, rosa, giallo, rosso. Ok, talmente... Verde. Rosa, giallo, rosso. Ok. E lo vuoi? E non me lo posso. Che devo fare? Ah, non ho la videocassetta. Sono povero. Non ho niente. Ah, qua, qua, qua. Bene. Cosa? Aspetta, è un go. Ah, forse mi sta spiegando il grampo, è anche vero? Un mappo. Sì, me lo sta spiegando, infatti lo sapevo. Beh. Si mette così, ok, va bene. Ah, perché sono delle pistole. Possiamo tirarci le cose? Cioè, intendo che possiamo trascinare le cose. È figo, eh. Ah. Ah, possiamo pure... No! 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 Ma... 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 Ma mi c'è... Ma mi dissolvi. Aspetta, però qua mi dava la mano... Cioè, non c'è la mano... Manca una mano! Mi hanno truffato! Oh! Raga, mi truffano! Ma poi... Dai! Vabbè, non è gratis. Voglio dire... Vabbè, lasciamo stare. Bello! Andiamo! Andiamo! Andiamo al lavoro! No, no! Io me ne ritorno a casa. Io al posto c'è... No, no, no. Voi sapete che... Sono... Vabbè, ma tra poco le unici di sé... No, in realtà ancora sono le dieci di sé... Ma facciamo... Aspetta, lui... Oh! Cosa sono? Chiave? Cosa ci devo fare? Devo aprire questo? Questo? Accolta per... Ok, sì. Eh, eh... Ah. Ho solo paura a vedere che cosa ci serve... No! No, è horror! No, 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 no. Gesù ti prego, salvami tu! Che figo! Posso con... No! Raga! Che figo! Le ho rimesso la corrente! Ma... No, 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 no. No, 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 no un infarto no 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 allora ragazzi voi sapete che mi piace il grandpa eh però wow che il mio obiettivo è prendere la mano rossa col co e con la macchina e chi me l'ha fatto fa va bene faccio quello verde è stato onestamente semplice raga no io ho paura che nel primo capitolo c'è un mostro mi sa che il mostro sarà chi vuole no allora vi prego no però io ma perché mi devo caccarado ma ci sei ah no cioè io sono un umano normale devo ma perché ci sono mani arancioni verdi ma ci succede aiuto io per forza devo avete capito però finalmente abbiamo preso la nostra mano e vi butto l'acqua perché sono felice evviva dammela mia dammela che è mia da mia dai io non me la sono piatta perché c'è ma se bug di gioco bello bro che 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 devo collegare ah colleghi è meglio che lo faccio da qua no ma giusto che così poi e poi di qua giusto ok vedi come stai cominciando a capire il gioco corro scape meno replay io non facciamo un tempo non ho visto niente io non ho visto niente io non ho visto niente io non ho visto niente va bene ma qui ci dobbiamo spostare non lo so evviva devo collegare la corrente ma ma chi me l'ha fatto fa ma perché io devo collegare la corrente cioè la vera domanda ma perché sono venuto qua sono venuto madonna mi sono fatto male è vero che il filo legge da qua eh dell'altezza però sto arrivando ma poi raga vi prego possiamo schippare questa scena dove faccio questa cosa perché vi lo giuro mi sto per mettere a piangere perché sembrano coi vabbè vabbè ora tutto si dovresti collegare giusto ecco collega ti muerto si collega collega buh cioè questo si collega a quello no scusa ma come sei oh mi è com'è mo' è cia caggia bagate con i napoletani che simpatico che sono no ma butto da qua tanto lo stiamo a cè no perché ho visto ma ma no allora io già cosa starò che devo fare devo guardare ah devo tirare le le devo tirare le le e tiriamo le buone tutte eh ok tutte ah forse dobbiamo fare un giocattolo perché qui c'è scritto mettete un giocattolo ah ok allora aspettiamo io mi prendo il brindisi eh voi fatelo che io ve lo mi rilasso a posto ci vediamo tra due anni ma io devo capire come ancora queste macchine come fanno a funzione ma ma io non mi devo fare domande giochiamo e basta grazie chi è ho paura di venire a qualcuno ma ma aghi wagi ora si chiama aghi wagi oh aghi no no c'è il giocattolo che carino no io non te lo voglio dare però mi apetta che carino purtroppo gliela dovevo mettere se non posso andare avanti no no perché là c'è una mi sa no no ti giuro che se come la penso che c'è la giochia devo andare nella mente ti giro sclero ecco lo sapevo che era così ti giuro no 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 Dietro di me, dietro di me sto pazzo Dietro di me, no, 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 no Calmo, sai, bro No, 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 loga, mi sto bisous Mamma, mamma, mamma Ti prego, Gesù Cristo, aiutami Ti prego, ti prego, ti prego Corri, corri Corri per la tua vita Ma porca putti Devi correre Ma lui sta venendo di qua Spicciati Calmo stai bro Calmo stai bro della mamma Che devo fare? Qua c'è uno scato No Codo Lo ammazza Codo Si Battuto E' il problema che ho ancora due capitoli da fare No Ecco questa Ah ho trovato il fiore a posto Ora perchè devo fare gli altri capitoli Non ho capito Lo so che tanto Ma io voglio capire Perché sono No mi direi di nuovo No No cos'è sta musica Ma perchè C'è una porta No Lucilo no Devo Devo aprire No No Gesù No 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 Ti ho aperto la mia casa E mi ha fatto uscire E finisce così il capitolo 1 Raga Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi E se questo video arriverà A 20 visualizzazioni Porteremo Poppy Playtime 2 E da me E da Poppy Playtime Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao Repeat Grazie.